È una settimana che inizia all'insegna dell'incertezza ma soprattutto all'insegna dei pericoli legati ai venti di guerra che provengono dall'Ucraina e dalla questione russa, che cosa sta succedendo sui mercati e soprattutto come i criptomarketer bitcoin potranno reagire ad una invasione russa dell'Ucraina o a una tensione estremamente importante da un punto di vista bellico, una delle peggiori situazioni degli ultimi decenni, ragazzi, senza alcun dubbio. Andiamo a fare il punto della situazione su cosa è avvenuto negli ultimi giorni perché c'è stata la fase di ribasso per quanto riguarda bitcoin di qualche giorno, poi Nasdaq ha reagito malissimo alla questione di venerdì, soprattutto c'è stata una presa di profitto proprio paventata dalla possibile invasione russa e quelle prese di profitto è avvenuta proprio nel fine settimana perché il fine settimana ci sono due giorni di buco e due giorni di paura e soprattutto perché queste cose avvengono molto spesso proprio durante eventi particolari oppure nei weekend, quindi sabato, domenica, quando tutti vorrebbero insomma un po' riposarsi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video con il bitcoin nostro portafortuna, ragazzi, che in questo caso ci serve doppiamente intanto perché ricordiamoci che la questione venti di guerra è senza dubbio, ha un'importanza molto più elevata delle quotazioni dei mercati cripto, quindi ragazzi, ovviamente noi stiamo fixed sul nostro tema, però queste cose sono molto importanti soprattutto da altri punti di vista, quindi incrociamo le dita che tutto vada a buon fine. Ho fatto un tweet domenica proprio dove indicavo chissà se il cripto uomo, cripto sapiens, l'ho chiamato così, sarà più intelligente degli altri perché spesso quasi tutte le grandi crisi economiche sono sempre sfociate in una grande guerra, noi siamo in una super crisi del debito, inutile che si mette sotto il tappeto, diciamo, si nascondono queste cose sotto il tappeto, incrociamo le dita che se ne esca in maniera differente. Allora, oggi è una giornata che sta un po' migliorando perché proprio ci sono delle notizie positive dal punto di vista diplomatico, quindi sembrerebbe che forse c'è uno spigaglio per mettersi d'accordo, ma nei prossimi giorni e in questa settimana il mercato sarà fortemente dipendente da tutto quello che è l'esito delle news legate alla questione russa. In più ci sono una serie di questioni legate alla Federal Reserve e come potrà agire soprattutto in base all'andamento di un indicatore che sono i prezzi industriali, cioè la parte inflazionistica dei beni industriali, non di quelli al consumo che uscirà, se non erro, mercoledì, poi lo andremo in caso a vedere. Allora, facciamo la nostra consueta analisi relativa a Bitcoin, andiamo a vedere dove sono le criptovalute legate al mondo DeFi, oggi stanno reagendo, ma Bitcoin ha dimostrato molta più forza in questi ultimi periodi. C'è una scadenza ciclica, quindi analisi ciclica anche oggi, perché la scadenza di fine febbraio è doppia, non è soltanto su Bitcoin, Ethereum, ma è anche su Nasdaq, ve la faccio vedere oggi. Insomma, è una super settimana, ma in sostanza questi 14 giorni di fine febbraio saranno veramente dei 14 giorni importantissimi per tanti punti di vista, sia per il mondo cripto ma anche per il mondo in generale. Va bene ragazzi, allora, soltanto una news oggi, domani, c'è il mio webinar relativo alle analisi su Bitcoin Target 2022, Bitcoin e cripto strategie che intendo seguire per quanto riguarda quest'anno e come vado a comportarmi, un webinar riservato solo ed esclusivamente a chi si iscrive dal link in descrizione, perché in questo webinar vi spiegherò tutto quello che riguarda anche il cambiamento dell'ecosistema di formazione legato a Trading On e tutto quello che ho in mente di fare, quindi ci sarà una super super news di aggiornamento e l'ultima grande promo, ve la spoiler qui ragazzi perché poi cambierà tutto, quindi assolutamente importantissimo. Non mancate domani alle ore 18, iscrivetevi dal link in descrizione e poi non dite che non ve l'avevo detto, sapevatelo, non si dice così, sapevatelo. Allora ragazzi, video abbraccio oggi perché mi va di fare così, ecco il grafico in questione che noi guardiamo sempre, partiamo da Bitcoin, poi andiamo a vedere TH come sta reagendo, Nasdaq e DeFi, Total Market Cap per l'intero mercato. Allora ragazzi, siamo in un ciclo mensile di Bitcoin iniziato sul minimo del 24 di gennaio e questo ciclo mensile è alla sua metà, quindi qui abbiamo fatto una struttura a cicli settimanali di natura ternaria, quindi 10 giorni in questo caso, poi 10 giorni, 11-10 dal minimo tra ieri, ma è più valido quello di oggi perché è lunedì e mancherebbe l'ultima parte di questa struttura ciclica, cioè la parte finale ed è questo proprio il ciclo che darà risposta ad una serie di interrogativi perché se questa fase riesce a restare al di sopra del minimo del 24 di gennaio, allora siamo probabilmente con grandissima probabilità, con molta probabilità, diciamo così, in un nuovo semestrale da gennaio. Se invece in questi 14-15 giorni, due settimane, Bitcoin dovesse ritornare a scendere sotto i 33 e breccare il minimo precedente, vuol dire che siamo ancora nel precedente semestrale e andiamo in close proprio verso fine febbraio, i primi di marzo. Ma unendo un po' i puntini che si stanno andando a delineare ragazzi, non so se già vi suona la campanellina perché proprio una paventata invasione russa in una situazione del genere, ragazzi, descriverebbe alla perfezione un crollo fatto in questo modo, proprio verticale, perché soltanto un crollo verticale da questi prezzi, ragazzi, ci potrebbe spingere al di sotto di questi minimi, secondo me. Ora, la questione è delicatissima, per fare un minimo del genere sicuramente avverrà un evento estremamente rilevante, quindi si gioca sul filo del rasoio una settimana, anzi due settimane, stra-importanti ragazzi per tanti punti di vista. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatta e vi dirò ancora un'altra cosa. Qualora dovesse esserci una questione legata, purtroppo in maniera estremamente brutta a questa eventuale invasione, seguiremo eventuali andamenti o quello che sarà in diretta Twitter con dei tweet aggiornati su tutte le oscillazioni di mercato delle criptovalute in generale e anche di Nasdaq. Quindi ragazzi, iscrivetevi al mio canale Twitter perché vi lascio il link in descrizione, seguiremo un po' l'eventualità a tutte quelle che sono questi movimenti quando dovessero verificarsi. Al momento quello che vi dico ragazzi, che io incrocio le dita, ve lo dico in maniera molto chiara perché la ciclica non anticipa il mondo, però ne descrive un po' un atteggiamento ripetitivo e quindi ragazzi è molto importante che questa zona si continua a stare, siamo in bilico, ve lo dico in maniera molto chiara e questa situazione è pericolosa. Allora, la situazione più probabile, andiamo per le questioni più semplici, va bene, invece di fare catastrofismi, non mi piace fare catastrofismi ragazzi, lo sapete bene, però quando ci sono situazioni delicate e mi preme appunto, insomma, dire alle cose come stanno, anche se io sono sempre positivo e non vi dico magari mai cose esageratamente negative, però nei dati un po' la paura si traspare appunto in questa situazione perché la vedremo anche su Nasdaq tra poco. Allora, la questione di questo trend ragazzi, si è fermato da un punto di vista di analisi tecnica all'interno delle mie due media che come sempre fanno in questo caso il supporto dopo il break avvenuto il 4 di febbraio, ci siamo da un punto di vista ciclico ma siamo anche nell'ultima parte del mensile, quindi teoricamente la parte più debole, il mercato probabilmente quello che dovrebbe fare da un punto di vista proprio standard è una cosa del genere, senza andare a breccare questo minimo, questo ciclo costruito in questo modo dovrebbe essere il più probabile perché la probabilità, il cluster di probabilità sta nelle cose più semplici ragazzi, ok? Quindi nelle cose più facili da intuire. Qual è la probabilità cigno nero che appunto avvenga un'eventuale invasione russa, un crash dei mercati e soprattutto un'impennata del prezzo del petrolio? Ne parliamo in un altro video perché dovesse avvenire una cosa del genere, il problema non è soltanto legato alla guerra e tutto quello che porta ma è legato al prezzo del petrolio che schizzerebbe alle stelle anche per le forniture russe di gas e tutto il resto ma soprattutto questo metterebbe tra incudine e martello la Federal Reserve che avrebbe in pratica le mani legate sul rialzo dei tasti quindi da una parte sarà spinta a cercare di frenare la spinta inflazionistica dall'altra dovrà salvare il salvabile in un evento del genere. Ragazzi è una situazione veramente delicatissima sul filo del rasoio quindi stiamo attenti a questi momenti quindi la situazione cigno nero prevede una cosa del genere è la peggiore possibile e ovviamente nessuno la vuole vedere non solo per i risvolti da un punto di vista delle quotazioni delle criptovalute mi permetto appunto di ribadirlo non è questione di cismo noi qui abbiamo un canale dove parliamo di queste cose quindi ma non è la vita non è concentrata solo su queste cose quindi è importante andare a valutare anche gli altri risvolti ovviamente ragazzi però qui ci concentriamo quindi sul mercato cripto e bitcoin. Allora quella è il cigno nero risvolto positivo tutto va per il verso giusto si risolve la questione dell'impasto diplomatico i mercati festeggiano l'indicazione di mercoledì relativa all'incremento dei prezzi alla produzione dei beni industriali è basso quindi inflazione controllata e si sale allora questi sono i probabilmente le diciamo i pivot point macroeconomici che vedremo in questa settimana questa la versione ciclica aggiornata ed è quella positiva dovesse andare così tutta la stessa identica questione la abbiamo su ethereum perché ethereum è stato più debole di bitcoin un po' ce lo aspettiamo c'è anche un grafico che io sto valutando moltissimo in questa fase ragazzi che è il grafico ethereum btc che ha un risvolto estremamente preciso sulla chiusura di un ciclo importante da lì in poi secondo me la questione di bilanciamento equilibrio ethereum btc andrà assolutamente affrontata quindi ne parleremo nelle prossime settimane perché lì ci potrebbe essere uno dei più grandi delle più grandi questioni del lato cripto degli ultimi anni e cioè la possibilità di ethereum di fare il colpaccio da alcuni punti di vista perché c'è questa possibilità ve lo spoiler in questo video ragazzi ma lo affronteremo nelle prossime settimane qualora appunto si andasse a delineare appunto questa chiusura quindi eth dove sta andando allora anche qui ragazzi il livello di mensile è a 21 giorni abbiamo ancora questo trancio di spazio per chiudere il ciclo mensile stessa questione tutto legato identico a bitcoin questo sembra palesemente il rimbalzo del gatto morto su eth e quindi in pratica sembrerebbe che anche eth sia un po' deboluccio e non riesca a fare una cosa del genere per andare a chiudere il mensile così ma più che altro sembra andare a tentare una cosa di questo tipo allora io starò molto attento nei prossimi giorni ho già allertato tutti i miei train system e saranno posizionati su eventuali vie di fuga ma soprattutto io un consiglio che non è un consiglio finanziario ma di prudenza ve la do ragazzi diminuite la leva se utilizzate leva finanziaria a tal proposito moltissimi di voi mi hanno anche chiesto ragazzi operi ancora con prime x bt sì o no ragazzi allora ragazzi c'è stato il blocco di prime x bt da parte della consul per la questione che guai sì è tutta l'ambaradam legato all'obbligo di iscriversi ai loro registi la stessa sorte è probabilmente capiterà a tutti gli altri exchange fin quando non si regolamenteranno perché l'italia ha fatto anche la nuova normativa di iscrizione e prime sta ovviamente collaborando con le istituzioni per fare tutto il processo di iter dovuto ovviamente ragazzi un exchange come prime che senza che così con tutto quello che ne compete e non poteva diciamo continuare su questa strada soprattutto nel nostro paese quindi ci stava quindi come si può utilizzare prime si può utilizzare e con una vps ragazzi con una dovete prendere una vpn e andare a scusate vpn non vps andare a in pratica connettervi dall'estero questa è l'unica possibilità l'exchange funziona regolarmente non è cambiato assolutamente niente se avete anche fondi da poter prelevare su prime potete farlo attraverso l'uso di una vpn quindi andate su la vpn andate su prime e sul vostro conto e vi prelevate quello che volete oppure continuate a fare trading quindi non è che l'exchange ha subito ragazzi una modifica quindi io sto continuando a utilizzarlo in vpn per il trading classico che si va a fare su questi mercati allora questo ve lo dico perché molti di voi mi hanno chiesto quindi prime la questione leva e tutto il resto si può utilizzare in questo modo ragazzi ok allora andiamo a noi per quanto riguarda l'altro consiglio la questione legata alla riduzione della volatilità bisogna ridurre la volatilità in questo frangente perché è molto pericolosa la situazione quindi in bilico probabilmente ci sarà uno scoppio di volatilità da una parte o dall'altra se i mercati dovessero prendere male delle news di natura geopolitica le news di natura straordinaria come quelle che stiamo vivendo in questa fase sono delicatissime i mercati la possono prendere bene o male quindi non è facile dare una direzionalità se giocate a leve molto elevate vi potete fare molto male quindi il mio consiglio da buon padre di buon padre di famiglia è quello di ridurre le esposizioni alla volatilità riducete le operazioni investite di meno ragazzi qualora volete fare trading oppure non lo fate proprio ok magari fate solo le operazioni intraday quando siete davanti grafici che riuscite a pilotare la questione va bene ok andiamo a vedere defi in questo momento e poi il nasdaq per concludere tutta quella che la nostra operatività allora per quanto riguarda la questione defi e il break del supporto a 118 billion è stato sentito poi c'è stato il ritorno dietro con il pullback sul livello precedentemente rotto a 140 adesso siamo ancora una volta alle prese con la tenuta di questo livello a 118 che però in questo caso ragazzi potremmo dire che è già stato in sostanza breccato e che questa è solo l'ennesima candelina di riflessione tra l'altro vi ricordo che da un punto di analisi tecnica questi tipi di candele sono molto pericolose ok perché le piccoline sono pericolosissime quindi nel momento in cui si va a innescare una continuazione di questo trend al ribasso qui stiamo solo aspettando per continuare questa fase di ascesa dovesse svilupparsi il famoso cigno nero su bitcoin secondo me nella defi succede un disastro questo io ve lo dico ragazzi poi è la prima volta che andiamo a vedere queste cose quindi si può sperare anche che ci sia che questo settore ci possa stupire però è veramente molto delicata la situazione quindi anche volendo stare all'interno di alcuni progetti mi raccomando ricordatevi che poi quando avvengono questi cigni neri spazzano un po via tutto anche progetti molto buoni che più che altro magari alla fine di un eventuale cigno nero possono essere o potrebbero essere anche appetibili proprio per l'acquisto perché il famoso sangue che scorre sotto i ponti e si entra col cash il problema è proteggerlo il cash prima ragazzi quindi non vuol dire non credere nelle tecnologie nei progetti ma vuol dire ragionare da investitore l'investitore non è un giocatore d'azzardo ragazzi l'investitore e protegge il proprio capitale lo fanno da sempre tutti i più grandi investitori del mondo da warren buffett a reitalio a charlie munger e tutti gli altri tutti ragazzi tutti anche il famoso sailor fanno così ok proteggono i propri investimenti allora questa è la questione legata al mondo della defy delicatissima questa situazione vi faccio vedere anche la questione della delle linee che vi dice appunto come questo rimbalzo è solo l'ennesimo rimbalzino però sembrerebbe una gamba di questo ciclo al di questo trend ribassista quindi attenzione anche qui nei prossimi giorni soltanto un incremento al di sopra di determinati livelli cioè delle due medie quindi sopra qui riporta il settore dei fai in una situazione di stabilità in questo momento è una situazione di inversione di medio periodo non di breve di medio periodo per il settore della defy delicatissima non è pericolosa proprio tanto perché solo sotto i 60 diventa proprio inversione di trend però ragazzi 60 billion dagli attuali 120 significa il dimezzamento delle quotazioni delle più grosse cripto delegata al settore dei fai quindi sarebbe un disastro non possiamo ragionare così su questi settori aspettando i trend e le inversioni di lungo periodo perché inversioni di lungo periodo su un settore esplosivo come il settore dei fai significa che praticamente è stato pulito con il costo stato perso praticamente quasi tutto quindi qui bisogna ragionare in anticipo dovete essere strategicamente preparati a questa cosa andiamo a vedere il grafico del nasdaq quello che sta facendo e abbiamo chiuso il video di oggi lo so magari non con le news che potevate aspettare ma c'è sempre da imparare in questi momenti e sono momenti molto delicati ma anche molto belli perché ragazzi perché insegnano tantissimo dei mercati quindi fatene tesoro perché dopo x crisi magari x situazioni di volatilità di instabilità che i trader investitori ti fanno la pellaccia come si suol dire e diventano più bravi possibile soprattutto noi avremmo anche il modo di capire se le criptovalute in questo determinato lasso di tempo possono fungere anche da bene rifugio perché loro in una circostanza di invasione russa potrebbe in effetti essere un bene rifugio bitcoin lo farà anche questa è la vera domanda c'è molta difficoltà a comprendere questa cosa però non ho mai dire mai ragazzi ok mai dire mai bisognerà vederlo e passarlo sulla nostra pelle allora nasdaq fermo sul supportone a 1400 a 14.000 scusate punti ma anche in una situazione di chiusura di questo ciclo corto un semestrale corto in pratica che dovrebbe avvenire se non è avvenuto qui ma mi sembra un po' troppo corto dovrebbe avvenire verso i primi di marzo vedete come anche la questione di nasdaq porta proprio tutta questa struttura alla fine del mese febbraio primi di marzo quindi fra due tre settimane attenzione perché questo ciclo che è iniziato lo scorso settembre è già ribassista ragazzi quindi non c'è nessun modo di avere un'inversione di trend fin quando questo ciclo non sarà concluso perciò ho il ciclo che sta facendo nasdaq da quattro mesi e mezzo circa insomma 160 180 giorni si chiude o è stato chiuso il 24 quindi riparte oppure si deve scendere ancora magari non con lo spike magari un doppio minimo però non c'è una soluzione a questa cosa ragazzi perché la ciclica ci parla chiaro e difficilmente si sbaglia su queste robe qui e quindi in sostanza siamo nella fase di attesa potrebbe anche disegnare dei doppi minimi intorno appunto a 13.000 14.000 punti e andrebbe benissimo nei prossimi giorni quindi oscillare fintanto che magari la questione politica possa essere messa a posto questa sarebbe la soluzione più importante però è proprio da nasdaq che arrivano anche determinati determinate indicazioni delicate sui mercati e su questa fase di mercato bene ragazzi allora io vi ho dato tutti gli aggiornamenti di questa settimana ma nei prossimi video andremo a affrontare anche alcune criptovalute importanti come ad esempio il CRO che cosa sta facendo ADA che cosa sta facendo ed altri cripto andremo ad affrontarle tutte quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto ragazzi per l'analisi bitcoin cripto oggi e le news legate bitcoin cripto oggi è tutto vi lascerò il link in descrizione per il mio webinar di domani noi ci vediamo domani nella live e poi ci sarà la doppia live perché domani sera siamo con gli amici del cartello cripto tutti da afterside quindi ci vediamo due volte domani nella stessa giornata ciao a tutti